ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a victor ross lo sceneggiato iberico giunto alla seconda stagione che prossimamente andrà in onda nella fascia oraria finora occupata dal dating show uomini e donne video ovvero quella delle 14 45 subito dopo verrà trasmesso un nuovo episodio de il segreto di puente viejo in italia la prima edizione della serie prodotta dalla new atlantis non ha riscosso un grandissimo successo di pubblico per questo inizialmente è andata in onda sulla rete ammiraglia ma poi è stata trasferita nella seconda serata di rete 4 cosa accadrà nel secondo appuntamento di martedì 5 giugno 2018 le anticipazioni ci rivelano che victor subirà un'immane tragedia di cosa si tratta nel prosieguo dell'articolo troverete un breve riassunto dell'episodio precedente la trama di quello inedito nel primo episodio di victor ross 2 abbiamo assistito a un salto temporale di cinque anni dalla prima stagione il poliziotto si trova nella capile spagnola insieme alla moglie carla e al figlio lecchio juanito la sua vita sembra essere tranquilla sia dal punto di vista sentimentale che professionale grazie alla sua caparbietà e forza di volontà ross è diventato uno degli agenti più rispettati del suo paese purtroppo la situazione è cambiata velocemente infatti l'uomo ha dovuto fare i conti con qualcosa di tragico che riguarda la consorte victor ross 2 minuti spoiler del secondo appuntamento per mandare in onda victor ross 2 per quasi tutta l'estate mediaset ha deciso di dimezzare gli episodi originali il secondo appuntamento dello sceneggiato iberico di canale 5 proseguirà con un inaspettato avvenimento stando alle prime anticipazioni la moglie di victor perderà la vita il vice ispettore di polizia dovrà fare i conti con questa grande tragedia e ricostruire i fatti sull'omicidio della consorte a quanto pare la donna rimarrà uccisa durante una rapina l'uomo per non cadere in depressione si butterà a capofitto sul lavoro cercando di recuperare l'oro della spagna la sua nazione non sta attraversando un ottimo periodo infatti è in guerra contro gli stati uniti d'america se desiderate ricevere ulteriori notizie ed anticipazioni sulla telenovela iberica video victor ross 2 vi consigliamo cliccare sull'apposito tasto azzurro canale tv so perché posto sopra questo articolo